siamo diventati poveri poverissimi ciao mamma ciao papi ciao amore ciao luca posso offrirti un bicchiere d'acqua di rubinetto no luca mi porta a cena fuori quindi bravo giovanotto bravo così si fa offre sempre l'uomo no veramente noi facciamo sempre 50 50 e come vai che è una cosa sportiva pizza taglio no no stasera sushi vero patatina occhio che picchia e picchia però è proprio buono e poi è trendy no ma pure più che 30 sarà 40 50 cioè forte ma non mi chiamo papi rendiamo è rivederci divertitevi a papi oggi sato la tua carta come mai i biglietti per il viaggio in vietnam letti è un biglietto per me e un biglietto per luca si due biglietti stavolta niente no grazie ma io ti ho detto mi chiamava papi nel momento no grazie a tutti 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 no grazie a tutti